amici di windows teca in occhioteca eccoci qui con un nuovo video oggi vogliamo fare un focus on su che cosa sulle novità introdotte dal nuovo aggiornamento windows per windows phone 8 che uscirà a breve questo aggiornamento di microsoft chiamato gdr 3 o update 3 dalla stessa microsoft è già disponibile per gli sviluppatori che appunto devono provare le proprie applicazioni e la compatibilità con questo nuovo con questo nuovo aggiornamento noi l'abbiamo installato vi sconsigliamo assolutamente di provare a farlo anche voi a casa perché perché invalida la garanzia quindi microsoft poi non una volta installato non vi garantiranno più la garanzia per il vostro telefono si può tornare indietro quindi si può tornare alla gdr 2 ma è una cosa molto complicata macchinosa e quindi vi sconsigliamo se non siete degli smanettoni provetti di applicarvi in codesta via oscura per installarlo comunque serve un'applicazione che si chiama preview for developer che si trova all'interno dello store dovete appunto essere registrati e via ma insomma diciamo che vi facciamo noi vedere le novità quindi guardatele attraverso il nostro video che lo stiamo facendo apposta quindi date un senso a tutto questo per vedere le maggiori novità si può andare all'interno delle impostazioni dove troviamo la maggior parte appunto delle novità la prima che vi vogliamo mostrare questa qui modalità guida una molto una una scusate una novità molto interessante che abbiamo aspettato ad configurare come potete vedere proprio per mostrarvi i passi per andare appunto ad impostarla sul vostro windows phone che cosa fa modalità di guida beh modalità di guida serve per non farci distrarre dal nostro telefono durante la guida o meglio non farci distrarre da telefonate ed sms che possiamo ricevere mentre guidiamo una volta aperta per la prima volta modalità guida ci va a chiedere se vogliamo ignorare le chiamate e gli sms appunto mentre questa modalità è attivata che cosa vuol dire appunto come vi dicevo se riceviamo una chiamata o un sms se abbiamo attivato come in questo caso tutte e due le ligni gli ignora il telefono non andrà a suonare non andrà a mostrare nessuna notifica sul display proprio per non andare ad infastidire e disturbare il guidatore microsoft però ha anche implementato un'altra funzionalità molto interessante ovvero la possibilità di rispondere in automatico alla persona che ci sta chiamando tramite scusate che ci sta cercando tramite chiamata oppure sms quindi anche in questo caso se attiviamo la risposta automatica sia per gli sms che per la chiamata il nostro telefono quando ne riceviamo una manda in automatico un sms preimpostato personalizzabile alla persona che ci sta cercando in questo caso come vedete il messaggio predefinito è già abbastanza eloquente e va appunto ad avvisare la persona che stiamo guidando e che questo messaggio di risposta automatico come vedete si può anche tranquillamente personalizzare una volta settato tutto tutte queste impostazioni si può andare ad aggiungere il dispositivo bluetooth con cui il telefono andrà poi ovviamente ad interfacciarsi durante la guida questa è la prima novità ma ovviamente non sono finite qui torniamo in impostazioni eccolo qua e andiamo nell'altra novità molto interessante ovvero toni suenerie che cosa c'è di nuovo beh intanto c'è la possibilità di gestire la suoneria dei promemoria cosa che prima non si poteva fare avevamo un quadratino qua in più e si poteva semplicemente attivare o disattivare il suono per il promemoria in questo caso si può ancora disattivare attraverso la scelta nessuna ma si può come vedete andare a scegliere anche il tipo di di suoneria appunto da impostare l'altra novità molto importante è che non si potrà scegliere solo tra le suonerie già installate all'interno del telefono ma si potrà anche scegliere un mp3 presente all'interno del telefono ovviamente con il limite di 30 secondi per il promemoria ovviamente ok l'altra novità è che sempre per toni suenerie è che microsoft ha dato la possibilità di agli sviluppatori di applicazioni di gestire il suono del delle notifiche toast quindi quelle notifiche che ci compaiono sul sullo schermo quando appunto un'applicazione ce la manda lo sviluppatore potrà impostare oppure inserire nelle impostazioni la possibilità di scegliere la suoneria per quella notifica toast ok andiamo avanti andiamo all'altra novità che è la rotazione schermo è stata inserita l'impostazione di rotazione schermo quindi si può andare ad attivare o disattivare la rotazione automatica appunto dello schermo come vedete adesso lo mettiamo su no quindi come potete vedere lo schermo non ruota più andiamo ad attivarla e ovviamente lo schermo il display tornerà a ruotarsi come è ovvio che sia per questa applicazione scusate per questa impostazione un'applicazione per ora solo nello store che è questa qui hardware test da la possibilità di inserire una tile all'interno della home screen eccola qui come potete vedere tappando si può andare ad inserire all'interno della home noi l'abbiamo già inserita e questo rende più facile l'accesso a questo tipo di impostazione per ora solo questa applicazione permette di fare questa cosa qui andiamo avanti continuiamo con le novità andiamo nella memoria del telefono ecco qui memoria del telefono memoria del telefono migliorata perché possiamo andare a vedere graficamente l'utilizzo della memoria delle varie categorie quindi applicazioni giochi musica documenti mappe e eccetera come vedete ogni categoria ha un colore che poi si ripete all'interno della memoria totale e noi possiamo andare a vedere quanta memoria occupa in proporzione rispetto alle altre categorie poi possiamo andare ad eliminare anche attraverso queste impostazioni quindi memoria del telefono i file temporanei possiamo andare a deliberare dello spazio con questa nuova impostazione in memoria del telefono e poi è stato inserito un link rapido un gestisci mappe per andare soprattutto a rimuovere le mappe comunque a gestire le mappe all'interno appunto dell'impostazione mappe la stessa cosa c'è un gestisci anche all'interno di musica e video che ci permette di andare a rimuovere e comunque gestire la musica e i video all'interno della dell'applicazione musica più video ok andiamo avanti e andiamo a parlare di un'altra cosa molto 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 interessante ma per fare ciò devo aprire un po' di applicazioni perché infatti con il gdr3 ci sarà la possibilità della chiusura più facile attraverso il fast app switcher di microsoft andiamo a vedere eccolo qui intanto come vedete è stata inserita l'icona a fianco al nome delle applicazioni e poi soprattutto è stata inserita la x che ci permette come vi dicevo di andare a chiudere in maniera facile e veloce le applicazioni congelate all'interno del fast app switcher ecco qua noi possiamo andare a chiudere tutte le applicazioni congelate oppure come prima andare a switchare da un'applicazione all'altra in maniera facile e sempre veloce ok altra novità che però non posso farvi vedere perché abbiamo resettato il telefono e quindi come potete vedere non abbiamo i contatti c'è la possibilità all'interno della scheda contatto di personalizzare la suoneria degli sms prima con il final gdr2 potevamo personalizzare la suoneria delle 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 chiamate adesso con gdr3 possiamo personalizzare anche quella degli sms altra novità che non vi possiamo far vedere è la possibilità quando andiamo impostare o a resettare il nostro telefono che lo formattiamo o ne co acquistiamo uno nuovo ci sarà la possibilità con gdr3 di impostare il wifi all'inizio delle della fase appunto di impostazione del telefono quindi potremo andare ad inserire un nostro wifi di casa e poi potremo scaricare il backup potremmo impostare il nostro account appunto attraverso il wifi cosa che prima non si poteva infine abbiamo una ottimizzazione per migliorare la qualità della connessione bluetooth tra il telefono e appunto gli accessori bluetooth compatibili poi in realtà ci sono c'è un'altra novità che però non riguarda i telefoni adesso in commercio perché è una novità che riguarda i dispositivi con schermi con schermo da 5 e 6 pollici quindi ci sarà la compatibilità comunque la il supporto al agli schermi da 5 6 pollici con una risoluzione hd a 1080p quindi questo permetterà a questi schermi di avere tre file di tile in formato diciamo quadrotto grande quindi avremo appunto tre file di quadrotti grandi disponibili all'interno dello schermo ripeto questo sarà solo per i dispositivi con 5 e 6 pollici quindi il prossimo phablet che verrà presentato a 1080p quindi il prossimo phablet che verrà presentato da nokia presto e soprattutto c'è anche il supporto con il gdr3 ai processori quad core qualcomm snapdragon 800 ovviamente per migliorare la fluidità e la velocità dell'intero ecosistema del telefono direi che queste sono le novità più importanti e soprattutto sicure di questo gdr3 o update 3 probabilmente ci saranno altre novità che microsoft non ha voluto svelare però ci rimane solo che attendere vi ripeto non se non siete beta tester scusate sviluppatori e soprattutto smanettoni vi sconsigliamo di provare a fare questo aggiornamento basate accontentatevi del nostro video ma soprattutto aspettate poche settimane come dice la stessa microsoft perché avrete il vostro aggiornamento gdr3 sui vostri windows phone 8 direi che è proprio tutto un saluto da francesco colonna per windows take a ciao a tutti